Si è svolta sabato mattina l'Assemblea Generale dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. La sezione della provincia di Pesaro e Urbino ha organizzato la riunione nel bar-ristorante Utopia del Parco Miralfiore, un luogo spesso teatro di fatti di cronaca, diventato sempre più sicuro e fruibile nel corso degli anni grazie al lavoro delle forze dell'ordine. Un teatro insomma di tanti fatti di cronaca, perché era frequentato e la forza di polizia stanno facendo molto per poterlo ritornare, ripristinare allo stato di legalità questo parco. Il locale riaperto faciliterà sicuramente questo compito perché è un punto di riferimento fisso per il fabbisogno dei frequentatori, è necessario. Quindi un locale del genere è importante. È importante poi la frequentazione del parco da parte di tutta la cittadinanza perché è l'unico modo che abbiamo per riconsegnarlo proprio a chi effettivamente ha il diritto di fruirlo, frequentarlo perché è un bellissimo parco e lasciarlo nel stato di abbandono proprio non è impensabile. Un'Assemblea Generale, un appuntamento annuale fisso, utile per confrontarsi con i soci, tracciare un bilancio delle attività svolte e programmare il futuro. Viene fatto ogni anno per il bilancio e confrontarci con i nostri soci, noi abbiamo anche l'organizzazione di volontariato, i soci nell'attività normale. Si fa reso conto dell'anno dove si elencano tutte le attività, si promuovono altre, altre iniziative. Quindi è un momento nostro di raccoglimento per fare il punto della situazione, per investire nel futuro anno con le nuove idee. Nel corso dei lavori assembleari sono state consegnate le tessere di appartenenza ai nuovi soci e l'attestato di socio onorario alla dottoressa Francesca Montereali, nuovo questore di Pesaro e Urbino. Tengo molto a questa associazione, questa associazione è un fiore all'occhiello della Polizia di Stato ed è molto amata da tutti i quarti noi, a iniziare dal signor capo della Polizia. Quindi per me è un oro particolare oggi partecipare a questa giornata rappresentando il questore della provincia di Pesaro. Ci troviamo al Parco Miralfiore di Pesaro, un luogo che necessita di lavoro continuo per migliorare sulla sicurezza. Io penso che il lavoro migliore da fare sia quello di avviare molti progetti che portino a vivere questo luogo il più a lungo possibile. Poi l'attività di prevenzione, di controllo del territorio, delle forze di polizia andrà ad integrare questa attività che è però molto più importante su un altro livello.